La risposta alla domanda che costituisce anche il titolo dell'articolo è possibile che sia, tutto o niente, ma anche che ci siano altre sfaccettature che una prima lettura nascosto. Io l'ho letto, in redazione arriva una mail che desta curiosità, dal titolo, e ancora di più il contenuto, caotico, con il quale ci viene simpaticamente presentata l'opera prima, letteraria, di Andrea Saolini, componente di una tribute band dedicata, come si evince dal titolo, I Kiss, conosciutissima rock band new yorkese, lo scriviamo per i giovanissimi, molto in auge tra gli anni 70 e 80, che aveva fatto del travestitismo e dell'impianto scenico.Fondamentale nei propri concerti. Qualitativamente i Kiss hanno dato non moltissimo al rock, molto di più al grande spettacolo, hanno piazzato qualche bel pezzo nelle iti di mezzo mondo, scritto un buonissimo album, concept, The Elder, particolare e suggestivo, che per questo non è stato premiato dal pubblico. In ogni caso, i Kiss hanno venduto qualcosa come più di 130 milioni di dischi. A fine carriera, abbandonate, o meglio accantonate parrucche, zatteroni ed effetti, i signori Kiss si sono riciclati con più o meno successo in altre attività. Fanno ancora concerti in una formazione ovviamente rivista, il passare degli anni è inclemente con chiunque non possiede il ritratto di Dorian Gray. Il libro, quindi, racconta della voglia di fare musica e di vivere di musica di una band romana, i The Sad Two Kiss, che dei Kiss americani ha fatto un motivo di orgoglio, attenta imitazione ed esibizione, dagli inizi degli anni 90. Un secolo fa, per esempio, per i 60.000 che hanno affollato l'Olimpico, recentemente, per il concerto dei Muse. Andrea Saulini. A decine di spettatori, a quanti che suonano non è mai capitato? L'avere a che fare con manager improvvisati o, peggio, in alcuni casi, farabutti, i dischi autoprodotti e venduti agli amici e ai parenti, l'autofinanziamento è una costante del mondo artistico. Ma anche la soddisfazione di suonare all'estero, insieme a Peter Cris, uno dei veri Kiss, e vedersi il proprio nome sui manifesti, momenti brevi ma che ripagano velocemente i periodi più scuri, e chi suona ne deve affrontare tanti. Perché quando arriva il momento dello Showtime, non si riflette, non si considera, non si desidera fare un lavoro normale, si esce e si suona e ci si gode gli applausi e la birra. Insomma tutto parte di quel tutto che ruota attorno alla voglia di suonare, prima per passione, poi per tirarci fuori dei soldi, che tanto non ci sono mai e, quando ci sono, sono sempre troppo pochi rispetto al lavoro che si fa. Quello che viene fuori dalla lettura del libro è proprio l'incitamento del titolo, il chi se ne frega che costituisce il motto di quanti, fortunatamente ancora tanti, e in tutti i generi musicali, incuranti dei plastificati talent show, dei milioni di dischi venduti con la stessa struttura marketing di una famosa bevanda, degli idoli per giovanissimi che vivono in mondi diversi dal reale, hanno faticato, sudato e suonato e continuano a faticare, sudare e suonare. Si divertono a fare i cover, in alcuni casi veramente bene, in altri da querela, ma non hanno mai paura di salire su di un palco, sperando di far divertire costantemente divertendosi a loro volta. Questo libro è per coloro che amano questo mondo e modo di essere, gli altri possono leggere altro, ammesso che amino leggere. Nella foto, Idress e tu chissi incontrano i chissi.